Sì, è il risultato. Sì! Dai, dai! Dai, raga, grandi! Ciao, Fede! Ciao, Fede! Dai, dai! Gole e punizione, grande! Cod'è che mi dicevi, scusami? Della regina? Sì, parola che ci ha il risultato, 120 euro a livello. Ah! Concentrati, raga! Ascendi, è lontano a tutta, andiamo in breakout qua dietro! Andiamo in kick-out! Goal! Andiamo, dai, raga! Così, cazzo! Yes, yes! Su, cosaggio! E vai, dai! Così, dai! Ah, va bene! Perché hanno un lato... Sì, sì, guarda, guarda! Anche un bel gol! Sì, però, dai! Rispetto al solito non è male! Vai! Sai, Ciccio! Gli ultimi 20 minuti non capisco più nulla, eh! Ah! Sì! C'è il sangue nel cielo! Sì, andiamo! Bravo! Grande! Bravo, Ciccio! Non è? No, è la macchia. La macchia! Bravo, Ciccio! Sì, magari c'è un gol della partita. Sì, buona partita! Grazie a tutti.